Nel centro storico di Modica un cantiere aperto per la sostituzione nel tratto di piazza municipio Duomo di San Pietro delle pedane in legno con basole di pietra modicana. I lavori assicurano dal comune saranno conclusi celermente e quindi i disagi dovrebbero essere limitati. Ma se alcuni commercianti ritengono buona l'iniziativa, altri sostengono che sarebbe stato opportuno realizzare queste opere in un periodo diverso senza scontrarsi con il notevole flusso turistico che si registra in questi giorni in città. Lo sostiene ad esempio Garbilla Modica, titolare di un locale per la ristorazione. Non era questo il momento, ci ha dichiarato a telecamera spenta, anche perché ci sono molti turisti e stiamo lavorando bene. Sarebbe bastato fare questi lavori a gennaio o a febbraio per non creare alcun tipo di disagio. C'è comunque anche chi considera i lavori un fatto positivo. Che è una cosa buona qua per Modica, per i commercianti e per chi vuole passeggiare, perché diamo più spazio al cittadino. Una volta ultimati i lavori, la cui celerità potrebbe far pensare ad una coincidenza con la campagna elettorale, bisognerebbe mettere mano ad una regolamentazione della circolazione in questo tratto di Corso Umberto da restituire ai cittadini e ai turisti.